Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, torniamo a parlare della tragedia di Firenze e i morti sul lavoro. Il primo servizio farà un focus proprio sui controlli a livello regionale ma anche nel territorio della ASL Toscana Sud-Est, sono dati che riguardano il monitoraggio nel 2023. I controlli nei luoghi di lavoro, cantieri compresi in Toscana, ci sono e superano di quasi il doppio la percentuale richiesta dal Ministero, ovvero il 5% delle imprese presenti in ogni territorio. A fronte di indicazioni nazionali che danno una vigilanza sul 5% di quelle che sono le posizioni assicurative territoriali dell'Inel, cioè sarebbe un numero legato al numero di imprese presenti nel territorio, quindi le indicazioni nazionali sarebbero quelle del 5% di queste imprese, e che è questa linea verde. Come possiamo vedere dagli istogrammi il numero effettivi di controlli effettuati in regione Toscana è molto al di sopra, anche perché la regione Toscana programma in genere un numero superiore a quel 5% pari al 7,5% a fronte di una programmazione di 3.100 controlli. Quindi il consuntivo nel 2023 ne sono stati fatti 4.030, quindi un 130%, con una copertura rispetto al numero di queste unità locali presenti al territorio del 9,9%, quindi un 10%. Faccevamo un ragionamento anche sull'impianto normativo, no? Ecco, le norme ci sono e sono anche ben articolate. Sì, esiste ormai il testo unico che ha raccolto diverse norme preesistenti, che è molto corposo e abbastanza completo. Certo, è migliorabile come tutte le leggi, però è abbastanza corposo e completo. Facendo un focus sui cantieri, nella ASL Toscana Sud-Est ne sono stati controllati nel 2023 più di 8.000. In totale, in tutta la Toscana, il numero dei cantieri controllati supera i 36.000. Nella sola ASL Toscana Sud-Est sono state rilevate 394 violazioni nel settore edilizio, 113 in quello agricolo e 432 negli altri settori. In tutto 12 le attività sospese, di cui 9 nel settore edilizio. Ma concretamente, come si effettua un controllo in un cantiere? Allora, i cantieri sono un po' diversi dall'azienda. In un cantiere, chiaramente, si entra, si cerca di riconoscere innanzitutto i lavoratori e le relative imprese, è importante. Dopodiché, chiaramente, si chiede del capo cantiere se è presente, eccetera. E quindi si chiedono tutta la documentazione che per legge deve essere a disposizione degli organi di vigilanza all'interno del cantiere. Quindi, se è previsto il piano di sicurezza e coordinamento, eccetera, eccetera. Dopodiché, quindi, verificati questi aspetti, quindi la presenza dei lavoratori, di quali imprese, perché chiaramente noi facciamo vigilanza sulle imprese presenti, che hanno dei lavoratori presenti nel cantiere. E dopodiché si ispeziona il cantiere, andando nei vari impalcati, insomma, a seconda del tipo di cantiere, verificando che tutte le opere provvisionali, collettive, le opere individuali, dispositivi di protezione individuali, siano conformi a quello previste dalla norma. E allora i sindacati saranno invece in protesta il prossimo 21 di febbraio. Sentiamo allora il segretario della CGL ai nostri microfoni. Per noi dare testimonianza della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori serve soprattutto a far capire che in questo paese c'è un'emergenza di sicurezza, c'è un'emergenza di norme. Bisogna investire, investire sulla qualità. Partiranno anche ad Arezzo in direzione Firenze per lo sopero proclamato da CGL, e dalle loro categorie edili e metal meccanici. La stenzione dal lavoro è stata indetta per dire basta alle stragi sul lavoro, a seguito del crollo nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze. Per noi è importante denunciare e far capire che ci sono delle responsabilità. Intanto c'è una competizione d'impresa che si gioca esclusivamente sui tagli alla sicurezza, vedendo la sicurezza e gli investimenti sulla sicurezza come costo. Ci sono degli impianti normativi che vanno modificati. Questo governo non ha fatto altro invece che disincentivare, deregolamentizzando il lavoro e deregolamentizzando quelle che erano delle prassi anche sulla questione legata agli appalti, rifavorendo la logica dell'appalto, del subappalto, del contrappalto. Non ultimo e massimo ribasso. Quando noi diciamo che bisogna estendere quei protocolli già indeboliti, per esempio che ci sono sugli appalti pubblici verso il privato, è perché se già sul privato ci sono delle regole per quanto riguarda gli appalti, che ripeto sono state indebolite, immaginatevi cosa può avvenire nel privato. I riflettori dopo i tragici fatti sono tornati ad accendersi anche sui controlli. Ma anche qui per fare più controlli ci vuole più personale. Io già in passato ho denunciato la carenza degli organici e la carenza degli organici sta di pari passo e finanziamento che si fa delle funzioni pubbliche decentrate. E dopo la strage nel cantiere si torna a parlare anche di omicidio sul lavoro. Lo stiamo parlando, lo stiamo sostenendo da tanto tempo, ma va tradotto in legge, perché parlarne basta non fa altro che ci si ritrova magari tra 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, se non domani stesso, a ridirci le stesse cose, a esprimere cordoglio. Parliamo ancora di truffe perché ce n'è una che è stata messa a segno anche nel territorio aretino nelle ultime settimane, si chiama la truffa del telefono caduto. Il messaggio che arriva alla vittima, principalmente persone anziane, è questo. Ciao mamma o babbo, mi si è rotto il telefono, puoi chiamarmi a questo numero? Questo dunque viene appunto visualizzato nel telefono della vittima. Poi, dopo che si risponde al messaggio, vengono chiesti dei soldi e viene comunque comunicato un IBAN su cui effettuare il versamento. Ovviamente non si deve rispondere. Quando si ricevono messaggi di questo tipo, dicono le forze dell'ordine, ma soprattutto in caso si fosse già risposto, il consiglio è di non cedere ovviamente le richieste di denaro. cancellare subito la chat e qualora il numero fosse già stato salvato, eliminarlo subito dalla propria rubrica. Non è invece un messaggio truffa, IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico operativo per quattro tipologie di rischio che è già entrato nella sua fase operativa. Vediamo. Dopo la fase di test che si è conclusa qualche settimana fa, IT Alert, il sistema di allarme pubblico della protezione civile è entrato in funzione. Informare tempestivamente la popolazione in caso di una situazione di potenziale pericolo è fondamentale e grazie a IT Alert la protezione civile ha adesso uno strumento in più per arrivare rapidamente e direttamente ai cittadini. Al momento l'operatività riguarda gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso esclusivamente per questi rischi, il collasso di una grande diga, incidenti rilevanti stabilimenti industriali, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica e attività vulcanica nelle aree di Campi Flegrei, Vesuvio e Isola di Vulcano. In caso di incidenti rilevanti stabilimenti industriali Seveso, cioè sotto sorveglianza per le materie prime a rischi utilizzate nelle lavorazioni, è previsto il coinvolgimento dei prefetti nell'invio dei messaggi IT Alert. Quattro gli impianti Seveso in provincia di Arezzo e sono Chimeta nel comune di Civitella in Valdichiana, Polinta, San Giovanni Valdarno, Arezzo Gas nel comune di Arezzo e Piccini Paola, San Sepolcro. Per quanto riguarda invece le grandi dighe per le quali il sistema è già attivo, quelle presenti nell'aretino sono la Penna, Levane, San Cipriano, Calcione, Sovara, Montedoglio e Cerventosa. In questo caso sarà il gestore della diga a comunicare al Dipartimento di Protezione Civile la fase di collasso. Il messaggio IT Alert, una volta trasmesso, verrà ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza e abbia il cellulare acceso e agganciato alle celle telefoniche. Il sistema IT Alert allarmerà la popolazione diramando ai telefoni cellulari che sono presenti nell'area coinvolta dall'emergenza, messaggi utili per gestire le situazioni critiche. Siamo alla politica, sarà forse un terremoto politico quello appunto che si sta svolgendo a Cortona? Di fatto non si conoscono le motivazioni ma l'assessore Alessandro Storchi si è dimesso. La notizia è proprio di oggi. Storchi ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore di Polizia Municipale, Protezione Civile e Personale, deleghe che gli erano state affidate dal sindaco Luciano Meoni proprio all'atto della Costituzione della Giunta nel 2019 e che quindi adesso tornano appunto in mano al sindaco. Parliamo invece di in questo caso candidature, ci spostiamo nel comune di Bucine, sarà Emiliano Taranghelli a concorrere appunto alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative nel comune del Valdarno Aretino. La lista civica di cui sarà capofila porterà il nome di sviluppo comune. Abbiamo scelto questo slogan, ha detto perché amalgama la nostra intenzione di lavorare positivamente per lo sviluppo della comunità appunto di Bucine. Una proposta in questo caso che arriva da Fratelli d'Italia ad Arezzo. La ex scuola di Ponte Buriano potrebbe essere trasformata in un centro di aggregazione sociale. L'idea appunto è quella lanciata a più riprese da Fratelli d'Italia a Arezzo che in merito alla questione aveva già presentato una proposta con la quale chiedeva di trasformare l'edificio attualmente utilizzato come centro visite della riserva di Ponte Buriano in un centro appunto di socializzazione per tutta la comunità. E adesso siamo alla pagina dello spettacolo. Un grande spettacolo di danza ha incantato il Teatro Petrarca di Arezzo. Dall'Opera di Parigi al San Carlo di Napoli fino al Royal Ballet di Londra e all'Opera di Roma. Sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo un parterre di etuale ai più prestigiosi corpi di ballo. Quest'anno la stagione concertistica Aretina si è infatti arricchita di un prezioso galali danza creato in collaborazione col primo solista del Royal Ballet Valentino Zucchetti che per l'occasione ha presentato in prima assoluta il suo ultimo lavoro investe da coreografo. In questi due anni e mezzo abbiamo fatto un percorso validissimo, abbiamo portato a Arezzo artisti davvero importanti che calcano i palcoscenici più importanti del mondo e questa sera ne abbiamo un esempio, abbiamo uno spettacolo di danza che abbiamo deciso di inserire nel nostro cartellone con le stelle della danza mondiale. Abbiamo alcuni dei ballerini migliori e più famosi del mondo con un programma splendido, con musica dal vivo. La sfida è stata questa in questi anni, quella di portare ad Arezzo interpreti importanti, alzare la qualità dell'offerta tenendo i conti sotto controllo, quindi meglio di così. Otto i pezzi danzanti proposti che hanno spaziato dal balletto romantico ad opere contemporanee. Il mondo del ballo per me è sempre stato lo stesso, è trasmettere emozione al pubblico, raccontare delle storie, le nostre storie personale, non si trasmettono con parole ma con movimento e con movimenti del corpo e è ancora più grande, puoi trasmettere ancora più emozione e per questo che apprezzo tanto ballare. E siamo allo sport, partiamo subito dal bellissimo successo dell'AMNBC Servizi che si porta a casa con anticipo la salvezza nel campionato di Serie B. Il servizio. Questa vittoria di ieri sera giustamente i ragazzi l'hanno dedicata al pubblico perché credo che comunque veramente ieri a Firenze abbiamo dato anche una lezione di tifo, mai un'offesa all'avversario, un continuo tifo per i nostri ragazzi. Questi ragazzi si sono sentiti dei leoni in campo e hanno aggredito sportivamente Firenze e abbiamo vinto questa partita fin dall'inizio. Una vittoria che vale più di tante altre, quella portata a casa dall'AMNBC Servizi Arezzo che spugna. Firenze si regala la salvezza con due mesi di anticipo. La squadra di coach evangelisti torna a vincere in trasferta nella gara più importante contro la Cantini-Lorano-Legnai a Firenze. 68-58 a favore degli Amaranto il punteggio finale si festeggia la salvezza senza passare dai play-out. La formula prevedeva infatti che l'ottava classificata alla fine della prima fase cogliesse la salvezza e potesse partecipare al girone che comunque alle prime due dà anche la possibilità di fare pre-off promozioni. È stata veramente una partita molto intensa, credo che i ragazzi hanno vinto con un grandissimo cuore perché già si era visto in casa con Empoli la determinazione con cui hanno cercato questo risultato se lo sono preso con grande voglia di vincere. Siamo tornati con lo spirito dello scorso anno e veramente bisogna fare i complimenti a tutti, allo staff tecnico, a tutti i ragazzi e anche al nostro pubblico perché ieri veramente a Firenze c'è stato un grande sostegno da parte dei nostri tifosi. In un pala filarate da sold out l'inizio gara è stato a favore dei padroni di casa. L'Arezzo dopo un'iniziale fatica comincia a rosicchiare punti ed è Toia per gli Amaranto a firmare il primo pareggio a quota 25. Sempre una perla di Toia consente all'AMNBC Servizi di andare negli spogliatoi sul 32 a 29. Al rientro i ragazzi di coach evangelisti partono con l'acceleratore premuto. Due triple di Toia e Zocca lanciano gli Amaranto a più 10. Alla terza sirena è ancora Toia ad investire il canestro che tiene la SBA avanti di sei lunghezze. I minuti finali si preannunciano incandescenti e non tradiscono le aspettative. A sei minuti dalla fine i ragazzi di evangelisti sono ancora più nuove. Firenze ha poi un sussulto con Cherubini che segna cinque punti in fila. Il tempo scorre l'AMNBC Servizi è aggressiva concedendo solo tiri sporchi agli avversari. Ancora Zocca da tre punti esalta il quintetto di coach evangelisti che vede avvicinarsi lo striscione del traguardo. I ragazzi a Amaranto tengono duro in difesa e non sbagliano dalla lunetta con Rossi che segna gli ultimi quattro punti che fissano il risultato finale sul 68 a 58. Sulla sirena può scattare la festa di squadra e del pubblico Amaranto per un risultato straordinario ottenuto con grandi sacrifici da parte di tutti. Onestamente crediamo molto su questo progetto, andiamo avanti su quest'idea, vediamo se riusciamo a trovare una mano per fare qualcosa di più. E allora in virtù appunto di questo bel successo, una piccola modifica al nostro palinzesto, l'intera trasmissione che solitamente è in onda il martedì, subito dopo il nostro telegiornale, con ovviamente appunto le vicende dell'AMNBC Servizio e in questo caso anche con tante interviste di commento, andrà in onda anche questa sera appunto su Arezzo TV. Quindi non perdetevi questo importante appuntamento sportivo, subito dopo il nostro telegiornale. Da un successo all'altro questa volta parliamo della ginnastica ritmica Falciai. Si agendica la prima prova del campionato nazionale di Serie B al primo posto Falciai-Arezzo. La squadra aretina della ginnastica Falciai ha esordito splendidamente nel campionato di Serie B, vincendo la prima prova a Chieti e mettendosi in testa alla classifica provvisoria del campionato. Le ginnaste aretine erano giunte nella cittadina abruzzese sabato sera, partendo proprio da Arezzo. Domenica sono scese in pedana e hanno sfoderato una bella determinazione, tutte artefici di una prestazione grazie alla quale si sono aggiudicate la vittoria. Rachele Rossi al cerchio, Ginevra Bindi alle clavette, Sofia Boschi al nastro, con il contributo della via regina Isabel Puccinella alla palla, sostenute a bordo pedana da Maria Vittoria Berti e Sofia Celestini. Le ragazze sono state guidate tecnicamente da Cristina Cammelli, responsabile della squadra, e da Caterina Moretti. Siamo veramente contenti e soddisfatti per questo inizio di campionato, commenta Michela Domini, tecnica responsabile del settore Gold. Le ragazze hanno condotto una bellissima gara, in società abbiamo tutti festeggiato e gioito. Non ci adagiamo, però continuiamo a lavorare, perché abbiamo ancora altre prove da affrontare e dobbiamo cercare di dare il meglio e di arrivarci preparati nel migliore dei modi. Non è andata bene invece per i colori dell'Arezzo, calcio femminile che ha dovuto soccombere contro la Lazio. L'impegno, sì, il risultato è stato così, però se vediamo anche gli episodi dove abbiamo preso i gol, sì, sicuramente c'è da lavorare, qualche calci d'angoli, rimesse laterali, però le ragazze hanno seguito il piano. Dobbiamo dire anche complimenti alla Lazio. Sono state tutte le ragazze, anche quelle che sono entrate, poi sempre sul pezzo, sempre molto impegnate in ogni secondo, in ogni minuto della partita. e si vede che è una squadra che è molto più forte anche della scorsa stagione. Sì, in bocca al lupo anche a loro. Noi continuiamo il nostro campionato, il nostro obiettivo, che è di prendere questa squadra e finire il più alto possibile. e abbiamo la testa alla prossima partita che è in casa contro il Genoa. Tutto sommato abbiamo fatto quello che avevamo preparato e avevamo detto di provare ad andare a prendere le alte. Diciamo che noi chiaramente non andiamo mai in campo per perdere, sapevamo che sarebbe stato complicato, quindi comunque abbiamo usato e abbiamo provato a metterle in difficoltà. Poi loro hanno grande qualità e quindi sono riuscite poi comunque a portare a casa i tre punti. L'Arezzo ha invece ritrovato il successo contro il Ponte d'Era con una doppietta di Gucci che sentiamo insieme a Mister Indiani in questo servizio. Una missione di tempo. Gli abbiamo mandato dentro due palle ferme, belle e pese, cosa che non avevamo fatto nel primo tempo. Però dai, prestazione bella, dipendentemente da chi ha fatto gol, prestazione bella che doveva essere sbloccata già nel primo tempo ampiamente. Potevamo fare molto meglio oggi. In primo tempo non abbiamo battuto bene le palle ferme, arrabbiato per l'intervallo. Controllamente l'abbiamo fatto nel secondo tempo, però ecco, prestazione buonissima, con le ali di Cesena, con la Conte d'Era, con l'Aulentella. Ovviamente siamo in un periodo lungissimo. Arrabbiato l'intervallo perché non era possibile stare 0-0 dopo un primo tempo del genere. Praticamente hai fatto una gara solo te, insomma, mi sembra la prima dall'inizio dell'anno che ero in questo vinciso. C'è una superiorità netta, proprio così, con tantissime qualle gol di. Bene, dunque, bene. Ragazzi gli dissi che se una squadra ne cambia otto a Cesena, noi tra Puntetere e Cesena ne abbiamo cambiate otto nel 2011. Praticamente tutti, perché il potere non conta e fa la prestazione uguale in quel modo lì. I giocatori sono bravi, sono bravi perché li stanno fuori. E poi, quando si scende la formazione iniziale, cioè noi ci aspettavamo sbaffo me all'andata, cioè che mandava a prendere parla giù. Non me l'aspettavo, ecco, proprio un 2-1 chiaro, così, con sbaffo il Carpani dietro me a Chiorri. Noi ci aspettavamo all'andata, cioè un attaccante sbaffo secondo e mandava a prendere palla molto bassa. E lì, Bianchi per queste cose è il migliore di tutti, per capire dove bisogna stare, una volta, insomma, poi, abbiamoci nell'intervallo, ero più giusto fare l'altro, però... ripeto, io mi fido di tutti. Possiamo giocare in 18, in tanti, credete, possiamo giocare in tanti e più o meno tutti allo stesso livello. Non ci sono proprio ecco di... mamma mia, manca lui, io mi facciamo. Sono contento, ma sono contento per la vittoria, perché la volevamo, è stata voluta, cercata e penso sia arrivato dopo una gran partita. Si sono rientrati consapevoli che prima o poi avremmo sbloccata e è andata bene. Ci sta anche così. Le punizioni sono state battute bene e ero nel posto giusto. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio allora con la trasmissione dedicata all'AMNBC Servizi con questo bellissimo successo appunto del basket a retino che si è conquistato in anticipo la salvezza nel campionato di Serie B. Per quanto mi riguarda è tutto. Grazie per l'ascolto e arrivederci.